Vostra Santità, la profezia è nel Libro della Rivelazione, 8-7. Quando il primo angelo suonò la tromba, vento e pioggia si abbatterono sulla terra. Quando il secondo angelo suonò la tromba, montagne di fuoco vennero giù. Quando il terzo angelo suonò la tromba, una stella fiammeggiante cadde dall'alto, ardendo come una torcia. Quando il quarto angelo suonò la tromba, il mare si alzò e inghiottì 200.000 persone. Quando il quinto angelo suonò la tromba, un astro dal paradiso cadde sulla terra. Gli fu data la chiave dell'abisso. E quando il sesto angelo suonò la tromba, la bestia fu liberata dal pozzo dell'abisso, portando distruzione sulla terra. Basta così. Vostra santità, la sequenza degli avvenimenti è stata ben interpretata. E l'evento astronomico non fa altro che confermare il nostro peggior timore. Siamo alle soglie di Armageddon. Il male più oscuro si sta avvicinando. E cercherà di sopraffare le nostre anime.